Questa mattina ci siamo incontrati al Proveditorato dell'Opera e Pubblico per fare il punto sulle infrastrutture piemontesi. Scriveremo una lettera al Ministero insieme a Regione e Provincia piemontesi. Due punti fondamentali che sono i tempi. Servono tempi congrui per poter fare un'analisi approfondita dello stato di salute delle nostre infrastrutture viarie. Al tempo stesso servono anche risorse sia per fare le analisi, evidentemente le analisi tecniche costano molti soldi, sia poi per evidentemente progettare e realizzare le opere che vengono individuate come necessarie. Perché è evidente che i monitoraggi sono utili solo nella misura in cui le opere individuate vengono poi progettate, finanziate e quindi realizzate. Altrimenti rischiano di essere un esercizio sterile fino a se stesso. Noi abbiamo proposto degli step. Prima di tutto le province faranno quello che gli è stato chiesto dal Ministero. Finalmente il Ministero ci riconosce il ruolo di coordinare, coordiniamo i comuni e riceviamo da essi le varie segnalazioni e le inoltriamo. Inoltriamo naturalmente anche le nostre condizioni della viabilità provinciale. Dopodiché però iniziamo un altro tavolo e altre partite che sono richiesta di fondi o di spazi finanziari a favore dei comuni per interventi sulle infrastrutture che risulteranno magari con dei limiti. Non possiamo pensare di fare semplicemente una raccolta dati, una trasmissione al Ministero perché se no si iniziano i sindaci e i presidenti di provincia a chiudere la viabilità penso che in questo Paese la gente non si muova più da casa per andare a lavorare. Forse questo non è ben chiaro al Ministro.